ciao ragazzi bentornati sul mio canale io sono daniele danzu e oggi siamo su the sims 4 come potete vedere dall'immagine se ci riesco a montare per bene il video oggi siamo ad un diciamo episodio speciale perché come potete vedere appunto dalla scritta sul schermo sto per far partire il danzu next up model è un programma che mi piace tanto lo seguo e diciamo che avevo intenzione già da un po di farlo ma non avevo appunto diciamo non avevo elaborata bene tutta l'idea finalmente ci sono riuscito e come ora ve lo spiego allora innanzitutto non sarà un sarà un concorso sarà un concorso dove la vincitrice già lo dico sarà il nuovo volto della copertina della mia pagina facebook quindi la vincitrice che sarà ovviamente una vostra sim l'immagine sarà diciamo messa come copertina allora cosa succede innanzitutto non sarà un concorso con puntate quindi non sarà come tutti gli altri reality che ho fatto quindi non sarà come il grande fratello dove ci saranno dei time puntate eccetera eccetera ma sarà un concorso solo ed esclusivamente fotografico quindi io insieme ad altre due persone che saremo i tre giudici e queste altre due persone io le ho già in mente quindi spero accettino e quindi spero che diciamo partecipano altrimenti sceglierò altre persone ogni settimana in base alle vostre foto che ci manderete su un tema specifico tipo il primo tema potrebbe essere modella al mare voi manderete ovviamente i vostri le vostre sim in costume in posa come cavolo volete e noi ogni settimana i tre giudici daranno una classifica privatamente a me dal che so da 1 a 15 di della classifica delle delle sim quindi quale che gli piace di più fino ad arrivare a quella che gli piace di meno così da avere un punteggio che sommato agli altri due persone quindi agli altri due giudici avrà un punteggio finale dove si creeranno le meno diciamo le foto che piacciono di meno verranno eliminate allora innanzitutto poi questa cosa magari ve la spiegherò e o la capirete meglio quando partirà innanzitutto come voi sapete avrete intuito ma io lo dico adesso ufficialmente dal 14 al 31 marzo io sarò in giro per l'italia quindi non pubblicherò video se non quelli del gameplay che ho già preparato sto già preparando e che quindi pubblicherò piano piano per quanto riguarda invece il grande fratello andiamo in pausa dopo la prossima puntata live e riprenderò da aprile quindi molto importante questa cosa ovviamente voi in questo tempo dal 14 di marzo al 31 marzo potrete mandare le vostre foto con le vostre sim per la selezione dove io ne sceglierò appunto 15 non essendo un concorso dove io farò delle puntate in gioco potete utilizzare tutto il materiale personalizzato che vi vi pare perché tanto io utilizzerò solo la foto che voi mi manderete di volta in volta step dopo step come ho detto ne sceglierò solo 15 quindi se ne dovessero arrivare di più ovviamente sarò io a decidere le 15 che parteciperanno e ovviamente ragazze non sceglierò tipo 10 sim bionde piuttosto che 5 more ma cercherò di avere un cast varia vario poi ovviamente se ne dovessero arrivare di meno ovviamente partiremo con meno sim io ovviamente ho intenzione di fare una sorta di almeno 4 barra 5 round dove fino ad arrivare alla finale dove appunto poi sceglieremo la vincitrice quindi ad ogni round verranno eliminate in base a quanti round poi farò 23 sim alla volta decisi da questo punto da questa votazione quindi potete mandare la foto di una sim io per la per la selezione voglio una foto in jeans e maglietta bianca che sia un top che sia una camicetta il jeans può essere strappato blu può essere quello che volete ma in jeans e maglietta quindi una cosa molto semplice e molto easy perché veramente una selezione dove mi raccomando in base alla posa si veda anche bene anche il viso quindi attenzione a ciò che usate come materiale personalizzato eccetera eccetera potete ovviamente mandarmi una sim di qualsiasi genere quindi giovane adulta o adulta bionda mora cinese africana tailandese quello che volete ovviamente quando mi mandate la foto mi dovete scrivere il nome e cognome della sim ovviamente chi l'ha creato vedrò da chi me l'ha mandato e niente potete mandare massimo due sim a testa non di più perché sennò cioè voglio dire dobbiamo dare un po spazio a tutti e ovviamente io terrò conto di sia il tempo che lo mandate la bellezza di tutto terrò conto di tutto del cast che voglio formare eccetera eccetera non vi voglio sfracassare le cosiddette pelotas per altri minuti di di me che mi sentite parlare con questa immagine di danzu next top model e niente spero vi piaccia come idea è una cosa che volevo fare da un po penso che come concorso sia molto bello quindi sarà anche molto interessante vedere tutto ciò che manderete quindi quello che sceglierete come abiti quello che sceglierete come look quello che sceglierete come tutto quindi io sono molto eccitato a questa cosa io poi ovviamente dal primo aprile quando tornerò sceglierò le 15 che appunto parteciperanno a questo concorso e ovviamente i 15 creatori e pubblicherò il diciamo l'album con tutte le foto delle 15 partecipanti quindi niente ragazzi in bocca al lupo mandate le vostre sim spero sia stato abbastanza chiaro se non sono stato chiaro ovviamente potete farmi tutte le domande che volete non volevo fare un video molto lungo quindi ho parlato sia velocemente e magari mi sarò dimenticato anche qualcosa come al solito fate ciò che volete pubblicate condividete fate quello che volete spargete la voce di questo concorso a tutti coloro che voi sapete che possa piacere una cosa del genere e niente vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo episodio ciao a tutti